Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui voglio parlarvi di Darling in the Franxx Allora, questo è un fumetto che può leggere chiunque Non ci sono scene esplicite, però c'è da dire che stiamo comunque parlando di un ecci Quindi, di seminutità femminili, fanservice, allusioni e doppi sensi ne è pieno l'intero manga Se il genere non vi piace, ci vediamo al prossimo video, è stato un piacere Se invece opere di questo tipo vi sono spesso piaciute oppure siete curiosi di leggerne una Darling in the Franxx potrebbe fare al caso vostro Ad impreziosire l'opera c'è l'esperienza del disegnatore Kentaro Yabuki Già autore di To Love Roo, che ci dona tavole bellissime Soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili Ha un tratto unico e le eroine vengono ritratte come al solito in modo molto conturbante Se serve fanservice di qualità, chiamate lui insomma Devo dire, e questa è stata una sorpresa Che anche i robot sono disegnati e caratterizzati veramente bene Il sensei Yabuki ha saputo sorprenderci con un talento che fino ad ora ci aveva tenuto nascosto Se basta un attimo per promuovere a pieni voti i disegni Per quanto riguarda la storia, serve un po' per capirne appieno le potenzialità Darling in the Franxx si pone l'obiettivo di unire il genere Mecha Noto in Italia anche come Robottoni E l'Arem, genere di cui tra l'altro To Love Roo resta uno dei titoli più apprezzati Che vede un ragazzo un po' imbranato essere attorniato all'improvviso da diverse belle ragazze Che più o meno implicitamente sono attratte da lui Ci identifichiamo con il rincoglionito Apprezziamo le belle ragazze che normalmente ci vengono proposte in pose sexy e abitini succinti Giochiamo a capire cosa avremmo fatto al posto suo Quale ragazzo avremmo scelto noi E per questo gli Arem sono un evergreen nel mercato editoriale dei manga In Darling in the Franxx l'imbranato nonché protagonista dell'opera si chiama Hero Vive in un futuro in cui la Terra è stata devastata dagli esseri umani E dalla loro bramosia di estrarre il carburante magmatico Potente fonte di energia che però per essere estratta necessita di pozzi profondissimi Che hanno distrutto l'ecosistema Gli esseri umani sopravvissuti si sono rifugiati in roccaforti mobili chiamate plantation Dove completamente isolati dall'ambiente esterno si godono gli agi della loro tecnologia avanzata A guastargli la festa però sono arrivati gli stridiosauri dei Kaiju Mostri giganteschi nemici dell'umanità Come spesso accade da Godzilla in poi I Kaiju vengono visti come un castigo della natura Che vuole punire gli uomini per la loro condotta sconsiderata Per contrastarli gli esseri umani hanno creato dei robot enormi I Franks pilotati dai Parasite che sono dei ragazzi molto giovani A cui è stata inculcata l'idea che il loro dovere è quello di rischiare la vita Per proteggere quelli che hanno distrutto l'ambiente Ora e qui viene la parte interessante I Parasite si dividono in Stamen, ragazzi E Pistil che invece sono ragazze I due termini vengono dalla botanica dove vengono usati per contraddistinguere l'apparato riproduttivo dei fiori Ogni Franks per attivarsi necessita di due piloti Che devono essere, indovinate un po', un ragazzo o una ragazza Ma non basta, la Pistil e lo Stamen devono tenere all'interno della cabina di pilotaggio Una posizione che ricorda il Kama Sutra I due devono sapere inoltre entrare in armonia Altrimenti il Franks non si attiva E qui iniziano i problemi per il povero Hiro Che non riesce a trovare una partner per pilotare un Franks Malgrado lo desideri tanto, non riesce a entrare in armonia con nessuna ragazza Quindi il Franks non si attiva Bene, ora è chiaro che stiamo parlando di sesso E che Darling in the Franks, oltre a essere uno spassosissimo manga sui robot che combattono contro i Kaiju È anche una metafora delle difficoltà che un giovane può incontrare all'inizio della sua vita sessuale Sono problemi molto frequenti che ovviamente non approfondiremo qui Se volete saperne di più guardate Sex Educational su Netflix Una serie televisiva molto carina Ma insomma abbiamo capito di che parliamo Hiro, come abbiamo detto, è tecnicamente il protagonista Anche se il personaggio simbolo del manga è la conturbante Zero Chu Bellissima ragazza, unica in grado di pilotare un Franks da sola Ma dalle origini misteriose, tra i suoi capelli ci sono due corna E sembra avere capacità fisiche fuori dal normale Tante ledicerie su di lei Per esempio pare che chiunque piloti con la ragazza prima o poi debba morire Chiama Hiro Darling e sembra molto interessata a lui Però non si capiscono i suoi intenti È la classica eroina che si presenta come un essere soprannaturale dalle sembianze di una bella ragazza Arrivata per aiutare il protagonista a risolvere i suoi problemi Ma devo dire che per quanto in lei ci sia molto di già visto Rimane un personaggio ben riuscito Meno appariscente ma molto più problematica appare Ichigo La leader della squadra di piloti di cui fa parte Hiro Ichigo somiglia un po' alle capoclassi dei manga scolastici Quelle tutte regole distintivo che però dentro nascondono delle fragilità Anche lei sembra avere un certo interesse verso Hiro Ma la sua rigidità le impedisce di essere sincera con se stessa e con gli altri Se volete sapere se una di queste ragazze riuscirà ad attivare il robottino di Hiro Madonna ok è finito il video Leggete il manga perché non faccio spoiler Comunque Darling in the Franks sicuramente non è una lettura per tutti Sicuramente a tanti questo tipo di storie non piacciono Io le adoro per dirla tutta Io però l'ho trovata geniale E quello che mi è piaciuto di più A parte i disegni magistrali E' proprio la sua sfrontatezza Non gliene frega niente di citare Evangelion, Lamu e altri classiconi Giocandoci, ridicolizzandoli E non parliamo del suo uso spudorato del fanservice E' tutto cringe E gli sta bene così E sta bene anche a me Quindi Darling in the Franks In fumetteria da poco E io come al solito Spero di essere riuscito a stuzzicare la vostra curiosità Ci vediamo alla prossima Never be game over Ciao ragazzi